Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 11 agosto Mauro Vigorito, il ragazzo di Montano Antiglia che ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente stradale sulla provinciale 430 Cilentana tra le uscite di Futani e Massicelle. Il giovane stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro a Vallo della Lucania come apprendista meccanico. Una nuova esperienza lavorativa avviata soltanto da alcune settimane, Vigorito viaggiava in direzione Palinuro sulla sua autovettura, una Peugeot 208, quando, per causa da accertare, si è scontrato con un Opel Meriva che viaggiava in direzione opposta, verso Vallo, alla guida una 49enne di Rocca Gloriosa. Al momento dello scontro, avvenuto poco prima della Galleria di Futani, la zona sarebbe stata interessata da un temporale che avrebbe potuto ridurre la visibilità. Un impatto violentissimo, fatale, al 19enne che secondo i sanitari sarebbe morto sul colpo. Nonostante l'intervento rapido dei soccorsi, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo ormai senza vite è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte. La donna, alla guida dell'altra autovettura, invece, è stata trasferita all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove, peraltro, lavore in una cooperativa e ricoverata in rianimazione dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto, ieri sera anche il sindaco di Montano Antilia, Alberto Del Gaudio, che ha voluto testimoniare la vicinanza della sua comunità alla tragedia della famiglia Vigorito. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Cuccaro-Vetere e dei militari della Compagnia di Sapri, una delle due vetture avrebbe invaso la carreggiata opposta per motivi da verificare. Il sostituto procuratore Valeria Palmieri ha aperto un'inchiesta e le due auto sono state poste sotto sequestro. La salma del 19enne è stata trasferita nella sala mortuaria del San Luca per l'esame esterno da parte del medico legale Adamo Maiese, prima della riconsegna ai familiari. I funerali dovrebbero esserci nella giornata di domani. Intanto riesplodono le polemiche, in particolare su internet, sulla presunta pericolosità delle strade cilentane. Soltanto a dicembre c'erano stati altri tre morti. Il 7 dicembre la variante 430 della Stadale 18 era già salita agli onori della cronaca per un tragico incidente nel tratto tra Vallo Scalo e lo svincolo di Omignano, con un bilancio pesante di due morti e quattro feriti. Qualche settimana più tardi poi, il 27 dicembre, ancora sangue, sempre sulla Cilentana, all'altezza di Futani, a perdere la vita un'altra donna di 35 anni, originaria della provincia di Salerno, ma residente a Bologna.